Carlo Forte, donna ustionata mentre beve dell'acqua, una settantenne cagliaritana rimasta gravemente ustionata alla bocca e all'esofago dopo aver ingerito l'acqua di una bottiglietta si trova ora in rianimazione, avviate le indagini. Recuperata una barca a vela francese incagliata a Ispruinis e gli uomini della Capitaneria di Porto di Sant'Antioco hanno avviato le operazioni di recupero in soli 10 minuti dalla richiesta di soccorso. Autonomie locali, come potrebbe cambiare l'assetto istituzionale? Dopo l'addio alla provincia di Carboni e Iglesias il territorio potrebbe trovare giovamento dalla rete dei comuni per mettere insieme servizi e risorse superando vecchi e inutili barriere, così il deputato del PD Francesco Sanna. Precari Sanità e il Coda Consellancia è un'azione legale, in caso di abuso di contratto il dipendente ha diritto al risarcimento danni per perdita di chance lavorative, l'iniziativa fa seguito ad una sentenza della Corte di Cassazione. Bene ritrovati su Canale 40, la cronaca in apertura del nostro telegiornale a Carloforte, una donna è rimasta ustionata mentre stava bevendo dell'acqua. Si tratta di una settantenne cagliaritana rimasta gravemente ustionata alla bocca e all'esofago dopo aver ingerito l'acqua di una bottiglietta. Si trova adesso ricoverata in rianimazione al Santissima Trinità di Cagliari. Una donna sulla settantina di origini cagliaritane si trova ricoverata in coma farmacologico all'ospedale Santissima Trinità in prognosi riservata. La sera di Pasqua, mentre si trovava in un hotel a Carloforte, ha bevuto dell'acqua da una bottiglietta rimanendo ustionata alla bocca e all'esofago. Intorno alle 20.30 la donna avrebbe chiesto dell'acqua per prendere un farmaco e il cameriere le avrebbe portato una bottiglietta versandole il contenuto nel bicchiere. Una volta bevuta l'acqua però la pensionata si è sentita subito male. Sul posto sono giunte la guardia medica e un'ambulanza del 118 che ha trasportato la turista al Sirai di Carbonia. In hotel sono arrivati anche i carabinieri che hanno sequestrato tutte le bottigliette della partita. La paziente è stata successivamente trasferita a Cagliari e ora si trova ricoverata nel reparto di rianimazione. I militari hanno avviato le indagini. Si attendi di conoscere il contenuto della bottiglietta per accertare se all'interno vi era liquido o corrosivo come ad esempio soda caustica. E proseguiamo con la cronaca. L'ufficio circondariale marittimo di Sant'Antioco ha ricevuto ieri la richiesta di soccorso da parte di un uomo che si trovava a bordo di un'imbarcazione a vela battente a bandiera francese incagliata sui bassi fondali di Sant'Antioco in località Ispruinis. Il comandante della Capitaneria di Porto, il tenente di Pascello Diego Leone, racconta che la risposta della motovedetta CP812 è stata immediata. In soli dieci minuti infatti il malcapitato è stato raggiunto. Una volta constatata l'impossibilità di arrivare accanto all'imbarcazione incagliata a causa del basso pescaggio, è stato inviato un gommone della Capitaneria. Ha effettuato il disincaglio, la barca a vela francese è stata presa a rimorchio e condotta in sicurezza presso il porto commerciale di Sant'Antioco. Parliamo adesso di autonomie locali e di come potrebbe cambiare l'assetto istituzionale nel sulcis iglesiente tra maxi province e rete dei comuni. Abbiamo chiesto al deputato del Partito Democratico, Francesco Sanna, come si potrebbe salvare il sulcis iglesiente nel post scioglimento della provincia di Carboni Iglesias. Oggi le cose sembrano veramente cambiate, anche se il quadro in effetti non è chiaro. Si parla di maxi provincia del sud Sardegna, che dovrebbe comprendere sul sulcis iglesiente medio campidano. Tuttavia ci sono diversi nodi ancora da sciogliere. La Sardegna, dopo il referendum che ha abrogato le province, ha fatto, anche un po' in ritardo rispetto a quando bisognava farlo, ha fatto una legge organica sulle autonomie locali. Negli giorni scorsi, per la prima volta, si è tracciata l'area metropolitana di Cagliari e il sindaco di Cagliari è stato nominato sindaco dell'area metropolitana. Cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che i comuni mettono insieme, per farle funzionare meglio, a favore dei cittadini, le loro risorse, per esercitare le funzioni, i loro compiti. Pensiamo al trasporto locale, per esempio. Pensiamo alla gestione dei rifiuti. Pensiamo ai sistemi di aiuto alle posizioni più deboli della popolazione. Per esempio i servizi sociali. Il sulcis iglesiente ha un'occasione, ha la possibilità di rintracciare gli strumenti nella legge, la rete dei comuni, che possono mettere insieme quello che si vuole mettere insieme, anche oltre lo schema, diciamo così, un po' angusto del passato della provincia di Carboni e Iglesias. C'è bisogno di uno sforzo da parte degli amministratori locali e dei cittadini per capire, per esempio, quali sono le ragioni per stare insieme e gestire insieme quei servizi. Ne aggiungo uno, quello del turismo. Se vogliamo trovare ragioni di sviluppo economico e di programmazione economica nuova, forse c'è bisogno di avere un assessore, diciamo così, al turismo della rete dei comuni del sulcis iglesiente. Ecco, queste sono le cose che dovremmo fare, magari, ripeto, violando alcune barriere che in passato c'eravamo messi. Il sulcis è, siamo sicuri, che si fermi a Teulada e non invece la ricomprenda, come storicamente è stato, prima della provincia di Carboni e Iglesias. E siamo sicuri che l'attività agricola della piana del Cigerri si debba fermare a Villa Massargia e non debba comprendere, invece, anche Siliqua con la sua grande tradizione, appunto, agricola e di allevamento. Queste sono le cose che abbiamo davanti e che dovremmo risolvere rapidamente nei prossimi mesi. Apriamo questo secondo blocco del nostro telegiornale con il punto di Manolo Murettu. È della settimana scorsa la clamorosa azione di protesta dei tre segretari sindacali di FSM, Fiume e Wilm, Soper, Silo e Salcoa. Questa iniziativa arriva dopo tante altre che negli anni hanno segnato le lotte operaie nel sulcis iglesiente dalle miniere fino al polo industriale. Iniziative spesso fruttuose, altre volte molto mero, come negli ultimi tempi. Questo a causa di una classe dirigente politica sempre più incapace di trovare soluzioni immediate e soprattutto di avere una visione futura dell'economia e dello sviluppo in quei territori come il nostro fortemente colpiti dalla crisi economica. Lotte che però rappresentano la continuità sindacale col passato e l'orgoglio di un popolo, quello sul citano, che non si vuole arrendere, nonostante tutto. Eppure il qualunquismo strisciante di Taluni è sempre pronto a esprimere giudizi negativi quanto impietosi ai limiti della diffamazione verso coloro che hanno interpretato e interpretano questi sentimenti di rivendicazione popolare della dignità con la propria incessante azione sindacale. Un'azione riconosciuta e imitata in tutta la nazione, tanto è stata significativa per immagine, abnegazione e lucidità. D'altronde, poche avvertenze in Italia possono vantare di essere state più volte catapultate all'attenzione politica e mediatica dei più alti vertici del Governo nazionale come quelle del sulcis iglesiente e in particolare quella dello stabilimento Alcoa. Dal Presidente della Repubblica al Papa fino al Presidente del Consiglio è un intero schieramento di Ministri, Prefetti, Presidenti di Regione, Parlamentari ed Europarlamentari che progressivamente sono stati obbligati a occuparsi delle problematiche dei lavoratori del sulcis iglesiente. Questo grazie al spesso, da alcuni vituperato, sindacato territoriale che ha invece assolto in pieno al proprio compito facendo quello che naturalmente è titolato a fare e che spesso molti fingono di non vedere, ovvero sollevare le questioni, i problemi e le criticità negli scrani più alti dove i decisori politici, quelli effettivamente titolati a decidere, sono tranquillamente seduti. Il sulcis iglesiente ha bisogno di grandi unità tra le forze sane che ancora credono nella costruzione di un futuro dignitoso per le generazioni a venire e non di sterili populismi che a tutto servono, meno che a risolvere i problemi. Adesso la finanziaria regionale c'è il Via Libera, i fondi per Saremar e il trasporto pubblico locale. Alessia Pinna. Via Libera a maggioranza dal Consiglio regionale all'articolo 7 in materia di trasporti. Stiamo completando un'opera di risanamento contabile delle aziende di trasporto pubblico locale e stiamo approvando un'importante disposizione per adeguare agli standard le prestazioni pensionistiche degli ex lavoratori Saremar, lo ha detto l'assessore dei trasporti Massimo Dejana. Nella norma sono previste le risorse per il ricollocamento dei marittimi ex Saremar, 3,3 milioni di euro e 15,173 milioni di euro per le aziende di trasporto pubblico locale ad esclusione di Arst SPA. Serviranno a coprire le passività pregresse derivanti dai maggiori oneri per il costo dei servizi di trasporto e per le ritardate erogazioni delle provvidenze per gli stessi servizi erogati negli anni fino al 2014. Così come lo scorso anno sono stati riconosciuti ad Arst i crediti pregressi, ora procediamo nella stessa direzione con tutte le altre società di TPL, ha sottolineato Dejana. Se pretendiamo efficienza dobbiamo prima di tutto pagare quanto da noi dovuto. Dejana ha rimarcato come le risorse destinate ai lavoratori dell'ex compagnia marittima regionale derivino dal risparmio dei fondi previsti per il bando sulla continuità territoriale, isole minori, oggi coperti dallo Stato. I lavori dell'Aula hanno proseguito con l'articolo 7bis che riguarda il turismo e in particolare la legge finanziaria che consente ai Marina Resort di applicare un'IVA agevolata al 10%, così come per strutture recettive all'aria aperta. Il dispositivo interessa circa 80 infrastrutture, più di 19.000 posti barca, oltre 600 addetti diretti e 3.000 indiretti, per un indotto di 15 milioni di euro, secondo i dati dell'Osservatorio Nazionale del Turismo Nautico. È quasi ormai certo il 5 giugno, con turno di ballottaggio il 19, ci sarà la prossima tornata delle elezioni amministrative. La data non ancora ufficiale sarà resa nota presumibilmente nel corso di questa settimana con un decreto del Ministero dell'Ambiente, anche perché secondo la normativa vigente ci sarebbe tempo solo sino al prossimo 11 aprile per decidere. Per legge le amministrative si devono tenere in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. Sono oltre 1.300 i comuni italiani chiamati al voto in questa tornata di giugno. Ancora qualche istante di pubblicità. Dopo l'azione avviata a tutela dei lavoratori della scuola, l'Associazione dei consumatori lancia una nuova azione collettiva riservata ai precari del settore sanità della Sardegna. L'iniziativa legale del Codacons si basa su una sentenza della Corte di Cassazione dello scorso 15 marzo che ha riconosciuto i diritti dei lavoratori precari e degli ospedali pubblici stabilendo che le aziende sanitarie non possono ricorrere al continuo rinnovo dei contratti, quelli a tempo determinato senza assumere personale tramite concorso. Per i supremi giudici, spiega l'Associazione, in caso di abuso di contratti a termine da parte di una pubblica amministrazione, il dipendente ha diritto al risarcimento del danno da perdita di chance lavorative in quanto il lavoratore rimane confinato in una situazione di precarizzazione e perde la chance di conseguire, con percorso alternativo, l'assunzione mediante concorso nel pubblico impiego o la costituzione di un ordinario rapporto di lavoro privatistico a tempo indeterminato. Tutti i lavoratori a tempo determinato impiegati nelle aziende sanitarie pubbliche con contratti a termine che abbiano superato, nella loro durata complessiva i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, possono ora aderire all'azione collettiva lanciata dal Codacons e ottenere così l'assunzione a tempo indeterminato, il riconoscimento dell'anzianità di servizio, nonché il risarcimento del danno fino ad un massimo di 50.000 euro. Un'iniziativa di solidarietà e lotteria a scopo benefico dal titolo Bimbi e mamme d'Europa, cura dell'Associazione 5 Mori di Cargonia. Manolo Morendu. Siamo in compagnia di Rocco Barascia, referente dell'Associazione 5 Mori. In questi giorni avete lanciato la vostra iniziativa dal titolo Bimbi e mamme d'Europa. Di che cosa si tratta? Si tratta sostanzialmente, sulla scia del discorso che noi facciamo sempre di integrazione, di riuscire a portare dei bambini dalla Romania qui, bambini che spesso e volentieri vivono lontano dai genitori perché sono qui per lavoro, per potergli far trascorrere un periodo di vacanza insieme alle mamme e abbiamo pensato anche in virtù di quella che noi vorremmo, un'integrazione maggiore, di fargli trascorrere un periodo di vacanze insieme a bambini e mamme italiane in modo tale che si possano conoscere e conoscendosi superare anche le incomprensioni che a volte capita. Per questo avete organizzato una lotteria? Sì, naturalmente purtroppo è necessario sempre finanziare le attività e abbiamo creato questa lotteria che abbiamo chiamato la solidarietà non conosce crisi perché in effetti grazie all'apporto dei commercianti di Carbonia, degli imprenditori, degli artisti anche, che ci hanno donato dei premi da mettere a disposizione per cui acquistando un biglietto di 3 euro non solo si può sostenere un'attività profondamente valida dal punto di vista solidaristico e di integrazione ma anche avere la possibilità di vincere dei premi interessanti. Dove si possono acquistare questi biglietti? Dove si svolgerà materialmente questa iniziativa? Allora, l'iniziativa era prevista per il 24 aprile, l'abbiamo spostata all'8 maggio in modo tale da avere un po' più di tempo a disposizione per vendere i biglietti anche il primo maggio. I biglietti adesso si possono trovare, non so, da Laura Casu alla Pescheria, da Domitila Melis presso l'Acis, da me e presso altri amici dell'associazione. Naturalmente se qualcuno è disponibile a darci una mano, in questo senso anche con la vendita dei biglietti, ci farebbe cosa gradita. Si svolgerà sabato 2 aprile a Carboni, in via Partigiani, il corso di formazione Progettazione Europea, promosso dal Centro Solidarietà Volontariato Sardegna Solidaria nell'ambito del piano di formazione Formidale. Il corso si svolge dalle 9 alle 18 con una breve pausa per il pranzo. Il corso sarà tenuto dai formatori Diego Corrias e Daniele Cocco. Parteciperanno 35 volontari delle associazioni Sassol Point numero 9 di Carbonia. Con questo appuntamento è tutto, il nostro telegiornale termina qui. Vi ringrazio per averci seguito e vi lascio come di consueto alle previsioni meteo e poi no assincurso il nostro telegiornale in lingua sarda. Vi do appuntamento alle prossime edizioni del TG40. Arrivederci. Previsioni per giovedì 31 marzo. Nuvolosità innocua. Vento da sud-sud-est con intensità di 19 km orari. Raffiche fino a 30 km orari. Temperature minime comprese tra 12 e 18 gradi e massime comprese tra 22 e 28 gradi.